ciao fragolini allora nuovo video ho fatto di nuovo shopping questa volta della sephora non ho preso tante cose sono due cose che dimostro perché dato che dovevo avere il 10 per cento di sconto su un altro acquisto e non avevo punti diciamo abbastanza per arrivare al 10 per cento di sconto allora ho detto vabbè acquisto vedo se mi piace qualcosa e poi se mi piace qualcosa lo compro se no niente ho trovato solo due cose per cui adesso vi faccio vedere cosa ho preso e prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video se volete lasciarmi un like e vi lascio anche il mio instagram sia qui che sotto in tutti i video che vedete li pubblico praticamente tutto quello che la maggior parte quando un pubblico è un commentino qua sotto iniziamo e vi faccio vedere cosa ho preso perché sennò questo video dura troppo allora si presenta così questa è la scatola e vi danno il sacchettino io avevo chiesto una carta regalo invece di darmi una carta regalo non so perché mi ha dato il sacchettino forse perché l'avevano finiti non lo so comunque vi faccio vedere i campioncini che ho scelto che sono due allora il primo campioncino è questo qui base prime step 1 adesso non so se riuscite a vederlo però questo devo comprarmi la macchina fotografica così almeno non ho problemi per farvi vedere i prodotti in primo piano ma dato che è un po complicato perché l'altro telefono non è che si vede tanto bene allora devo per forza farvele vedere così poi altro campioncino di giorgio armani che è questo è un fondo tinta e non sbaglio numero 55 questo e in più c'è anche il codice se se acquistate della sephora avete questo codice che se non sbaglio è di 25 euro se se spendete 99 euro sui prodotti di armani per cui voi prendete i prodotti di armani spendete 99 euro e vi danno 25 euro di sconto il codice io ce l'ho ovviamente non credo che lo uso perché non sono una che spende così tanto e non compra cose costose può capitare una volta e basta però vabbè fa niente invece quello che ho preso io il che in questo sacchettino ho preso questa matita waterproof eyeliner allora questa la dovevo pagare 6 euro e 90 la dovevo pagare ma non so perché me l'ha fatta pagare 9 euro e 90 praticamente era scontata del meno 30 per cento oggi vado vedere vado mi sono accorta che la matita non l'ha passata 6 euro 90 non ha passato 9 euro 90 non lo so il perché ma ho controllato di nuovo sul sito per acquistare per diciamo acquistare l'altra matita però mi segna 9 euro 90 per cui vuol dire che lo sconto non c'è più ma non capisco perché la seppora ha messo c'è ancora questo sconto se poi alla fine non non è scontata per cui in pratica l'ho pagata a 9 euro e 90 invece di pagarla 6 euro e 90 non capisco il motivo perché adesso vi faccio vedere una foto qua che vi faccio vedere che costava 6 euro 90 però detto questo adesso facciamo lo swatch questa è la 09 glitter black c'è il pennellino per sfumarlo questo qua l'ho scelta glitter perché dato che io metto sempre nero sugli occhi perché il mio colore sugli occhi sinceramente è il nero io non ci posso fare niente allora quando metto l'ombretto metto sempre il nero comunque la matita è fatta così la tirate su praticamente così e adesso la sgocciamo non so neanche se si vede sì brillantini ce li ha adesso non so se si vede però comunque sì un po di brillantini ce li ha la proverò e vi farò sapere questo è stato il mio primo acquisto l'ultimo acquisto l'ultimo acquisto ho detto non ho stato tanto perché sono solo due pezzi mi mi piaceva questo set questo tre di questa marca questo set praticamente adesso è in inglese e non c'è scritto bene non c'è scritto comunque è fatto così mi piaceva perché molte ragazze hanno detto che hanno usato questo che è quello per 7 massaggio viso questo qua per massaggiare il viso e dato che si sono trovati bene che hanno detto che era molto utile e si sono trovate bene allora alla fine ho detto vabbè proviamo tanto cioè mi piaceva ho detto infatti questo è fatto così e dentro ci sta questa crema che adesso non so allora questa di 15 ml è piccolina fatta così naturale alle ore vera io solo apriamo proprio gel che buon odore mamma mia è fatta così tipo gel è buonissimo l'odore fa impazzire adesso sto sporcando tutto giustamente per cui c'è dentro questo qui e questo che ripeto ci sono tre step da fare solo che il problema è che qui non c'è scritto l'italiano ok l'ho visto allora stick per la pulizia viso che dovrebbe essere questo e invece il gel idratante viso praticamente questo gel idratante viso invece questo lo stick che praticamente 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 vediamo se ok dovete arrivare il tappino ed è fatto così anche questo verde molto molto buono per cui in poche parole dovete mettere prima lo stick poi gel e massaggiare con quello lì e sì la marca è mers merci handy se non mi sbaglio sproncio così non lo so perché non è che le pronunce però è fatto così questo è il set per il viso che mi piaceva molto allora ho detto vabbè lo prendo lo proviamo e poi vediamo l'ho pagato 19 e 90 per il prezzo secondo me un po tantino perché non è che allora lo lo sticca di 30 grammi per cui è pochissimo secondo me poi non lo so per 20 euro sembra un po troppo secondo me ecco non ho anche tirato vabbè finito lo metto dopo ho pagato ovviamente la spedizione 3 ore 95 se non sbaglio dovete spendere più di 40 euro se non mi sbaglio non lo so io ho speso 33 euro e 75 perché la matita non me l'aveva scontata in poche parole se invece la mattita era scontata spendevo di meno ma con la spedizione la consegna eccetera diciamo che 3 euro vai a pagare per cui niente questi sono stati i miei acquisti ci saranno degli altri nei mesi che devono arrivare e fatemi sapere cosa cosa voi avete acquistato dalla sephora come vi siete trovate io per il momento mi sto trovando bene tranne qualche diciamo problemino sia sui prezzi che non me le passano sia con i punti che l'altra volta non me l'ha passati punti un po un casino però diciamo che la spedizione è molto veloce detto questo fatemi sapere se voi avete provato queste cose che vi ho fatto vedere e come vi siete trovati detto questo vi ricordo di iscrivervi al mio canale di attivare la campanellina lasciarmi un bel mi piace e seguirmi su instagram noi ci vediamo al prossimo video ciao